Cos'è successo? Dimmi se stai bene. Possiamo usare il DRS, il DRS è disponibile. Lo fai sembrare facile. La pista è libera, bandiera verde. La pista è libera. La pista è libera. La pista è libera. La pista è libera. Adesso devi finire la corsa con queste gomme. Ok, il distacco è 3,8 secondi. La pista è libera. Bello, che sorpasso. La pista è libera. La pista è libera. La pista è libera. La pista è libera.